Allora, Fefe De Giorgi è arrivata la prima sconfitta in Volleyball Nation League, oggi con la Francia al tie-break, una partita dei due volti, l'Italia brava nel secondo e quarto set, ma la Francia ha avuto in più qualcosa a cosa? Io penso che noi abbiamo avuto le nostre occasioni e credo che potevamo fare meglio in tante situazioni. La Francia ha giocato, è una squadra take, è una squadra che difende, è una squadra che crea quantità di gioco, quindi alcune cose se le sono prese, altre secondo me le abbiamo concesse noi. Quindi adesso si tratta di, comunque abbiamo lottato nel senso che la partita si sapeva che era complicata, ma c'è mancata un po' di qualità, di continuità nella qualità, perché secondo me abbiamo in alcune situazioni gestibili, ecco, non abbiamo concesso qualcosa. Si tratta adesso di recuperare e domani quelle cose lì farle meglio. Meno di 24 ore. Gli Stati Uniti che hanno appena passato l'Italia nel ranking, non bisogna fare calcoli, ma bisogna subito resettare e concentrarsi su domani. Sì, sì, noi il ranking lo dobbiamo guardare, guardiamo il gioco, guarda, perché alla fine oggi se abbiamo perso è perché alcune cose del gioco non le abbiamo fatte tanto bene, quindi lasciamo stare il ranking. Il ranking è una conseguenza di come giochi. Domani sarà una partita tosta, perché gli Stati Uniti, insomma, sono una squadra, adesso sono al completo, giocano con grande ritmo, quindi sarà una bella sfida anche domani come è stata quella di oggi e dobbiamo essere, diciamo, belli carichi perché ci sarà da battagliare domani.